Grazie a tutti Praticamente ho rotto 6 vertebre Con la lesione midollare Frattura del bacino Insomma un bel incidente E purtroppo In ospedale o altro Ti fanno fare la fisioterapia Più che altro Ti portano a un livello di autonomia Però comunque Poi se non ci metti del tuo E se non trovi uno sport che ti appassiona Insomma Sempre via rimani E fortunatamente Con la fisioterapia Ho visto qualche miglioramento Però niente di più E allora Sono tornato Dimesso dall'ospedale Sono tornato a fare visita alla palestra Al testardo Pur sapendo che Comunque rischiavo molto altro E mi sono fatto seguire Da Paolo Il fratello di Cristina Morti in gamba E ho visto Molti risultati Anche solo nel fare le scale Per andare giù All'inizio era da morire Adesso invece Me la cavo parecchio Ho solo due muscoli In tutte le gambe Perché comunque il resto È sempre paralizzato Però Anche solo facendo Due o tre ore Per fare di giorni a settimana Ho visto molti risultati Insomma E poi Anche più le soddisfazioni Perché comunque Ti trovi a un punto Che non sai più dove sbattere la testa E vedere che comunque Faticando un po' Riesci anche a essere contento È una bella cosa Insomma Grazie 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 Grazie